Buongiorno, iniziamo con il Whatsapp. Io ho inventato un nuovo modo di fare comunicazione, inventando il Whatsapp, cioè il Whatsapp on the web, il Whatsapp sul tubo, l'ho inventato solo io. Andatevi a vedere la storia, la storia del web, andatevi a vedere i videomaker come sono nati. Io ho inventato un modello, gli altri hanno copiato il mio modello. È una sorta di modello matematico, come metodo sperimentale. Allora, il boxer dorme? Dorme troppo, domanda? Dorme più di 20 ore al giorno. Però ho letto su internet che va bene, dai, ci può stare un cucciolo. Però lui dorme, lui dorme veramente tanto, perché lui dorme la mattina, è un casino, tipo non so, dalle 8 di mattina fino a mezz'è, poi si sveglia 2-3 ore, si addormenta ancora fino alle 7, sveglia 2 ore, poi dopo dorme tutta la notte. Guarda che, chi sta meglio di lui, guarda, lo vedi? Ciao, Bess.